Giorno 7 con la Carrera 4 e oggi mi trovo in un bellissimo posto di montagna dove ho deciso di fermarmi per fare qualche ripresa carina e qualche scatto anche perché come potete vedere qui il panorama è davvero stupendo e lo è di più in presenza della nostra Carrera 4. Adesso vi faccio fare un giretto intorno così la vedete a 360 gradi anche con la feduta che ho qui intorno a me davvero un panorama niente male anche se è nelle curve che dà il meglio di sé ma vi volevo fare una piccola nota sui consumi che vi avevo già fatto ieri ed è che in pratica siamo riusciti a fare un nuovo record ovvero in autostrada abbiamo fatto 8.1 litri per 100 km questo ovviamente andando a 80 all'ora visto che c'era comunque un po' di traffico e dobbiamo dire che abbiamo raggiunto questo record anche senza l'adaptive cruise control quindi davvero un consumo buonissimo considerando che stavamo in settima con cambio sempre automatico e quindi 8.1 volendo si poteva arrivare anche a 8 ma non abbiamo avuto il tempo a sufficienza magari oggi avremo modo di verificarlo ma ovviamente i consumi non sono la caratteristica di questa carrera 4 ecco perché dopo vi farò un video anche con un piccolo launch control un po' di traffico Grazie